Si è concluso con il saluto che Francesco ha voluto rivolgere ai fedeli e ai pellegrini collegati attraverso i media, l'Angelus del 26 novembre, dalla cappella di Casa Santa Marta, letto da Monsignor Braida, capo ufficio della Segreteria di Stato, a causa del leggero stato influenzale del Papa. E a tutti auguro buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. In precedenza, durante il Post Angelus, il Papa ha riflettuto sulla pace a partire dall'Ucraina che in questi giorni ha commemorato l'Olodomor, il genocidio ad opera del regime sovietico che 90 anni fa ha causato la morte per fame di milioni di persone. Per tutti i popoli dilaniati dai conflitti continuiamo a pregare senza stancarci, perché la preghiera è la forza di pace che infrange la spirale dell'odio, spezza il circolo della vendetta e apre vie insperate di riconciliazione. Non è mancato un ringraziamento al Signore per la tregua tra israeliani e palestinesi che ha permesso la liberazione di alcuni ostaggi nelle mani di Hamas a Gaza. preghiamo che lo siano al più presto tutti, pensiamo alle loro famiglie, che entrino a Gaza più aiuti umanitari e che si insista nel dialogo. È l'unica via, l'unica via per avere pace. Chi non vuole dialogare non vuole la pace. Per Francesco, a minacciare il mondo, c'è anche il pericolo climatico che mette a rischio la vita sulla terra e specialmente le generazioni future. Questo è contrario al progetto di Dio, perciò il Papa ha confermato l'intenzione di recarsi negli Emirati Arabi Uniti per intervenire sabato prossimo la COP28 di Dubai. Ringrazio tutti coloro che accompagneranno questo viaggio con la preghiera e con l'impegno di prendere a cuore la salvaguardia della Casa Comune.